questi sono auricolari tequila in il magnetiche sportive della e pons 22 allora riproduzione della musica è circa sei ore nella conversazione al telefono sono sette ore qui sono varie formazioni allora bluetooth e connessione 4.1 la batteria ci dura anche 400 ore in stand by quindi molto buono allora per la ricarica ci vogliono due ore arriva una semplice scatola che qui saranno auricolare all'interno dentro quindi protetti allora poi c'è rima un sacchettino dove riporre auricolari quando noi utilizziamo mondo comodo con sui gomini il cavetto usb micro usb un cavetto piatto molto comodo e poi troviamo ovviamente vari ricambi troviamo quattro ritami così e poi troviamo ovviamente ricambi anche per auricolari da più grandi a più piccoli ecco qua molto comodi anche questi ecco qua poi troviamo libretto di istruzioni in italiano anche allora cosa è veramente molto comodo noi possiamo utilizzare questi auricolari collegandolo nel stesso momento a due dispositivi allora questi sono wireless ovviamente quindi non non hanno il jack dell'uscita questo è per stringere questo è una funzione che qui è il microfono qui si carica batteria con entrata micro usb e qui abbiamo al centro tasto multifunzione volume meno volume più quando accendiamo si accende qui alla spia bianca avete visto poi per spegnere dobbiamo tenere premuto per più tempo e diventa arancione non si è visto forse sì ecco qua allora non è abbastanza resistente anche se si piega però è resistente anche qui vicino auricolari modo comodo sono come potete vedere piegati quindi resistono fissiono rimangono fissi nell'orecchio modo comodi già ho provato così e ovviamente questi due punti qui sono magnetici quindi come potete vedere ecco qua rimangono uniti quindi quando non utilizziamo più possiamo metterli intorno al collo e non rischiamo di perderli comunque sono un suono molto buono e i rumori esterni non si sentono assolutamente nella chiamata vocale quando si risponde dall'altra parte mi sentono molto bene non sentono nessuno non si sente nessun rumore particolare che potesse disturbare la nostra chiamata possiamo passare anche da una chiamata all'altra di due smartphone smartphone di due dispositivi diversi nel stesso momento quindi modo comodo possiamo fare la chiamata direttamente ultima chiamata direttamente da qui ovviamente rispondere anche da qui anche da mettere giù ascoltare musica ovviamente l'acqua con volume anche con passo avanti e indietro per le canzoni quindi che dire è molto comodo molto belli mi piacciono tantissimo di ottima qualità quindi che dire io le consiglio un buon acquisto